Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci duriamo su Fortnite Prima di iniziare con questo video vi ricordo sul canale attivo un contest di 10.000 feedbacks gratis per voi Perciò se volete ottenere questi 10.000 feedbacks totalmente gratis mi raccomando iscrivetevi a questo canale Attivate la campanella delle notifiche Andatemi a seguire su Instagram r4scot-youtube E all'interno di supporto a un creatore inserite il codice rascot-omg Questi sono dei passaggi da eseguire per essere inseriti all'interno di questo contest di 10.000 feedbacks Trovate un video qua sotto in descrizione dove vi dico anche la data di inizio e la data di fine di questo contest Io sto scendendo a picco sopra, mi trovo ora sopra a picco volare Sto andando sotto perché tra pochissimo ci sarà un aggiornamento E ve ne parlo più avanti perché voglio far vedere questa cosa che è apparsa qui a picco volare Che mi ha seguito ieri in live, l'abbiamo visto in diretta e l'ho visto per la prima volta con voi Questo è un occhio e mette molte inquietudine, mette anche abbastanza pura Perché guardate un po', segue qualsiasi movimento Una curiosità legata a quest'occhio, a parte che seguire ogni nostro movimento Che è davvero un'animazione molto figa Se noi andiamo fuori dal suo raggio, ok così, sentite ora Alzo un po' il volume perché fa un suono che a noi dovrebbe essere abbastanza chiaro Perché già ve l'ho fatto sentire più e più volte in una clip Sentite ora? L'avete sentito? Come sapete bene questo è solo l'inizio di una parte della clip audio Che adesso vi metto per farvi sentire tutto il suono completo Perché molto probabilmente dopo l'aggiornamento che si terrà oggi Nel pomeriggio potremo vedere un cambiamento legato sempre a questa zona qui a picco volare E probabilmente sabato l'evento finale Come abbiamo potuto sentire all'interno della clip audio Questo è solo l'inizio di un evento che sicuramente durerà più di un giorno Ora vi faccio sentire anche un'altra cosa Se ci avviciniamo, sentite Quello che spero stiate sentendo perché non ho Ok sì, c'è un battito cardiaco di sottofondo Quindi questo nemico, il mostro, ha un cuore Quindi sicuramente ha un cuore che ovviamente il suono proviene da quest'occhio Però non penso che ha il cuore nell'occhio anche se tutto è possibile Comunque penso che sentiamo in questa parte il battito cardiaco del cuore Perché il ghiaccio è più fragile rispetto ad altri punti Quello che a noi interessa sapere ora è soprattutto di chi è quest'occhio Io vi dico se state pensando al probabile evento con Godzilla Vi dico sicuramente per certo che, per certo no, anzi facciamolo per un buon 80% Perché domani ci sarà l'aggiornamento e non vorrei che Fortnite mi smentisca Comunque essendo che c'è un occhio all'interno di Piccololare E viste come sono andate sempre le collaborazioni con Fortnite Che hanno apportato sì motivi all'interno dello shop All'interno delle modalità di gioco e nella modalità creativa Mamma ai cambiamenti alla mappa di Fortnite Se state pensando all'evento di Marshmallow, quello è stato un caso a parte Perché appunto era una collaborazione che è andata oltre C'è stato anche un merchandising di magliette, gadget che sono state vendute Però quello lì è stato un caso a parte Le ultime collaborazioni che abbiamo avuto, quella con John Wick John Witch, chiamatele come vi pare, e il brand della Jordan Abbiamo visto delle modifiche all'interno dello shop All'interno della modalità creativa e in un'altra modalità di gioco Però mai modifiche consistenti alla mappa di gioco Come in questo caso Anche perché non avrebbe senso Essendo che le collaborazioni sono a parte con la storyline di Fortnite Non avrebbe senso inserire in questo caso Godzilla all'interno di Picco Polare Io vi avevo detto che credevo alla storia di Godzilla Soprattutto per l'impronta Eccola qui, questa impronta qui Che troviamo vicinissimo a Picco Polare Mi sono spostato, sono in questa casa qui sotto al barcone dei vichinghi Perché non so, un po' affascinato da tutte le cose che avevo trovato Che si ricollegavano e combaciavano con Godzilla Mi ero immaginato una probabile collaborazione assurda Ma soprattutto legata a questa impronta Ma allora voi mi chiederete A che appartiene quell'occhio a Picco Polare? Beh ecco, possiamo fare i vari teori e diversi ragionamenti Guardate un po' il Leviatano che era ieri presente all'interno dello shop Se non assomiglia in qualche modo al mostro che è qui davanti a noi a Picco Polare Io non vado ad escludere che la skin del Leviatano non c'entri niente con quest'occhio e con il probabile evento Anche perché mi sembra stranissimo che proprio ieri è tornata all'interno del negozio oggetti Che era una skin che non vedevo da tantissimo tempo Oppure possiamo pensare e ritornare a parlare delle uova Perché oltre a queste cinque uova che erano presente dove era anche il prigioniero C'era un uovo più grande, magari nascosto E appunto si è schiuso Ed è quest'occhio, questo mostro che sta per uscire qui davanti a noi Tra le varie teorie, io ovviamente vi sto dicendo quelle che potrebbero essere veridiere C'è anche nella season 8 Abbiamo visto questa immagine qui Che appunto rappresenta questo mostro marino Sembra un octopus, un polpo, non so, un kraken Credo di no Comunque se andiamo ad analizzare l'occhio di questo mostro Non c'entra niente perché è per verticale Mentre l'occhio che abbiamo davanti a noi è un occhio, si può dire umano Cioè sferico, tondeggiante Ma per avere la risposta o quantomeno un buon indizio Ci spostiamo qui sul profilo Fortnite, su Twitter E andiamo a vedere, ecco qui Ieri Fortnite è andata a ritwittare questa immagine di El Rubius Io non ho idea di chi sia Ieri live lo siamo andati a vedere Dovrebbe essere uno streamer Mai sentito parlare comunque di lui Ecco qui, sono andati a ritwittare questa immagine qui Come vi avevo detto, ci ho preso regà Perché vi avevo detto che si trattava di un gatto Già in precedenza quando vi avevo fatto vedere dei file di gioco legati al presunto mostro all'interno di Piccololare E appunto Fortnite è andato a ritwittare l'immagine di questo gatto che sembra il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie Mi dà ora, ho pensato a questa cosa, mi dà un po' l'impressione Con una F di Fortnite Ovviamente la F è di Fortnite perché il carattere utilizzato è quello lì, il principale carattere che utilizza Fortnite Mi sembra un po' strano però questo gatto Prima andiamo a vedere, guardate, l'andiamo a tradurre El Rubius è un, testualmente la traduzione ci dice Assaggiatore professionista di Entei Cioè ok, un creatore di Entei Mi piacciono i gatti obesi Non ci dice di più, non abbiamo altre informazioni se non questo mi piacciono i gatti obesi Io sono andato un po' a spulciare il suo profilo Non c'è niente di che che ci può aiutare a capire che cos'è questo gatto Occhio comunque raga, qui abbiamo una cosa sotto i nostri occhi E non ci sto facendo per niente caso Perché ha la stessa descrizione che ha anche per il gatto Cioè 25.5.2019 Che è questa gif che indica un film che io ho visto che vi consiglio di vedere perché è bellissimo Ovviamente il titolo non me lo ricordo però ve lo scrivo qua sotto È veramente bello questo film Soprattutto per la trama perché appunto c'è questo ragazzo Che va a scoprire una serie di misteri legati a un gioco Per poi ottenere una chiave che poi servirà in futuro Comunque non vi spoilerò niente del film Molto molto bello andate a vedere Però questa chiave qui ora a noi ci interessa particolarmente Perché se ben vi ricordate quando abbiamo dovuto sbloccare la prima fase del prigioniero C'era una chiave sempre qui a picco volare E però è molto molto interessante soprattutto per la descrizione Che combacia con queste immagini che andate a rituitare Fortnite Andiamo a vedere un attimo il profilo di Fortnite Che cosa ci dice in relazione Non vorrei che a... no ok Quindi signori abbiamo solo questa immagine e quella gif che abbiamo mostrato precedentemente Molto molto interessante perché in precedenza mi era sfuggita E ora bisogna capire se questa gif ci vuole indicare che ci sarà una chiave Oppure che Fortnite sta diventando un rompicapo Come appunto il film Già che Fortnite non fosse di suo una cosa difficilissima da comprendere per legare tutti i vari eventi Comunque questa immagine qui del gatto a me non mi porta a nessuna parte Perché guardate qui l'occhio è totalmente diverso Sono due occhi perché ci possiamo basare su questo al momento totalmente differenti Sicuramente qui uscirà qualcosa e probabilmente questo gatto sarà un altro gatto Non so se c'entra qualcosa Alice nel Paese delle Meraviglie perché a me assomiglia tantissimo a quel gatto Lo stregatto mi sembra si chiamava Siamo ancora qui su Twitter perché Fortnite va a postare una cosa che ci interessa molto Cioè il 29 maggio oggi alle ore 14 ci sarà l'aggiornamento del contenuto della patch 9.10 Questo aggiornamento del contenuto ovviamente comprende il probabile evento di picco volare Anche se secondo me l'andremo a vedere sabato probabilmente Domani vedremo solamente un nuovo stage a questo evento Quindi forse oltre all'occhio ci andranno a svelare anche qualche cosina in più Magari riguardante questo mostro Ma il corpo dell'aggiornamento riguarderà sicuramente Oltre ai vari fix dei bug che ancora sono presenti all'interno del gioco di Fortnite L'introduzione di una nuova arma L'SMG sarà una mitraglietta Tra poco vi lascio delle clip per farvela vedere Ho già letto dei vostri commenti dove dicono che probabilmente è molto simile al FAMAS Perché all'interno di Salve il Mondo il FAMAS ovviamente ha tre colpi Però è nella sezione mitragliette Quindi signori spero che questo video vi sia piaciuto Io domani mi aspetto oltre a vedere tutte queste cose Anche magari qualche piccolo cambiamento all'interno della mappa di Fortnite Soprattutto in questa zona Io infatti domani farò una live all'una e mezza Anche perché alle 2 non ci sarà download Quindi potremo subito gioinare Spero Speriamo che si tratti magari di 5 minuti di offline E poi potremo entrare in game Soprattutto per vedere magari qualche piccolo aggiornamento Riguardante Crazy Groove Come già vi ho mostrato in più video La situazione di Crazy Groove sta patch dopo patch cambiando E sembra che molto presto la vedremo di nuovo in game Finalmente Ora vi lascio a delle clip legate alla nuova mitraglietta Così da farvela vedere in anticipo E se vi fa piacere più tardi all'1.30 Farò una live come già detto Così possiamo vedere questo nuovo aggiornamento insieme Perciò ci vediamo più tardi in live Mi raccomando non mancate E... Le belle! Mesami!